Cialente tira dritto, la lealtà viene prima di tutto, spiega. Le deleghe dell'ex assessore Lelio De Santis saranno ripartite fra il vice sindaco Nicola Trifuoggi che avrà il bilancio e Fabio Pelini di rifondazione che otterrà il turismo. I giorni fa mi si rimproverava da parte di un consiglio comunale dell'opposizione che io stavo moltissimo e mi dice tu sei un moralista. Io credo, sì forse sono un moralista però credo in alcuni valori. Uno di questi è quello di una lealtà reciproca. Secondo avviene un momento politico particolare di difficoltà. Terzo mi fa pensare a questo volersi tirare fuori le responsabilità. Perché? Ma perché è un modo anche di fare, pensare già alle elezioni, fare i belli. Sì siamo dentro ma noi siamo quelli che sollevano i problemi. Questa è una cosa che non è possibile dato che non era la prima volta. Io ho già più volte detto a De Santis che alcune sue esternazioni mi infastidivano. Tipo quella che il progetto CARS era stato gestito con superficie di addettantismo che è stata usata ad esempio alla Corte dei Conti per condannarci e così via. Perché le deleghe al vice sindaco Trifuoggi? Perché quello più alleggerito in questo momento è una parte di delega a lui, una parte di delega a Pelini e si fa un discorso di carico di lavoro. Noi siamo... Cosa a Pelini? Ma non so se a Pelini potrò dare qualche cosa tipo il turismo che potremmo fare insieme, insomma dividere un pochino perché l'assistenza della popolazione che è tuttora un caos, comunque un po' va scemando e rinforziamo un po' gli assessorati. Nessun timore di andare a casa in seguito alla perdita di due consiglieri dell'IDV di Nicola e durante? La città deve sapere. Con l'assestamento tutti a casa? Se De Nicola e durante decidono di essere a casa basta che dicono alla città noi andiamo tutti a casa perché De Santis è stato mandato via. È un problema loro di fronte alla città di responsabilità.